E' appena cominciato il mese di settembre, il che vuol dire per la Major League Baseball una sforza soltanto, ovvero siamo arrivati al rush finale prima dell'inizio dei playoff, ultimo mese di regular season di fuoco per quanto riguarda l'American League soprattutto per la lotta wildcard, ma come sempre partiamo dalla classifica presente per il classico recap mensile sul mio canale. Per un'American League che vede una lotta molto intensa per la wildcard che qualifica quest'anno tre squadre ai playoff, invece per l'altra lega, la National League, c'è una lotta un po' più ristretta ma comunque altamente interessante. Prima però di andare per ogni singola squadra a analizzare classifica, posizioni e possibilità di eventuali qualificazioni ai playoff, ci proiettiamo proprio verso quello che sarà il calendario dei playoff ufficiali, perché è notizia molto recente, la MLB ha ufficializzato le date per quanto riguarda i playoff 2022. Sappiamo perfettamente che la stagione è iniziata in ritardo per via del lockout per il contratto collettivo dei giocatori, alla fine la stagione è iniziata dopo e quindi anche i playoff inizieranno leggermente più avanti rispetto al normale. Questo è il tabellone con il format ricordiamo allargato a 12 squadre, la prima data utile da ricordarsi è il 7 di ottobre dove ci saranno i 4 wildcard game per quanto riguarda la prima serie di playoff che ricordiamo è al meglio delle 3. Sarà una lunga mensilità di ottobre quella che ci aspetterà per i playoff perché fino al 28 parleremo di division series, championship series e wildcard series, non ci sarebbe in questo ordine ovviamente. Ma dal 28 ottobre fino ad arrivare addirittura a inizio novembre si parlerà di world series e lì sarà veramente interessante capire chi arriverà fino in fondo in una lega che tutto sommato è rimasto di essere tanto equilibrata, soprattutto nella American League e vedremo poi alla fine della classifica della wildcard. Intanto prendiamo nota di questo tabellone e di questo format poi ovviamente avremo un approfondimento prima dell'inizio dei playoff come tutti gli anni, ottobre sarà il mese in cui dedicherò un appuntamento settimanale praticamente a ogni fine turno al meraviglioso gioco del baseball, qui invece torniamo all'appuntamento mensile e torniamo nel presente perché come al solito è tempo di classifiche, review e analisi, un American League East che è sempre in lotta ma probabilmente con meno squadre rispetto al preventivato. È vero che sono ancora privi i New York Yankees con 79 vinte e 52 perse ma non hanno più un vantaggio clamoroso come appunto il mese di luglio, li abbiamo lasciati come una squadra sicuramente qualificata ai playoff e li ritroviamo a settembre come una squadra sicuramente qualificata ai playoff ma in una striscia aperta di periodo no. È vero che nelle ultime 10 gli Yankees hanno vinto 6 partite delle ultime 10 appunto ma in agosto di fatto gli Yankees sono stati la peggior squadra della Lega, ancora peggio delle altre squadre che la stagione è andata veramente su ancora prima dello Star Game per esempio. Tanto è vero che se guardiamo il raffronto con i diretti avversari se eravamo intorno alle 15 partite di vantaggio nel mese di luglio e il mese di agosto adesso il vantaggio sui più diretti inseguitori è di 6 sole partite, inseguitori che in realtà sono cambiati ma solo come posizioni perché nell'ultima review era seconda Toronto e terza Tampa Bay, qui invece è seconda Tampa Bay e terza Toronto. Tampa Bay che sta pian piano recuperando una marea di infortunati della lista di infortuni ha comunque messo a posto un record 72 vinte e 57 perse per la formazione di Kevin Cash peraltro una delle squadre più in forma della division perché 8 vinte delle ultime 10 e 3 di fila a oggi quindi grande prestazione dei Tampa Bay Rays che appunto avevano una lista di infortunati chilometrica parliamo addirittura di 16 infortuni per quanto riguarda la formazione della Florida. adesso che pian piano i lanciatori soprattutto stanno tornando abbiamo la dimostrazione che Tampa è una buona squadra e molto profonda, figuratevi con i lanciatori sul pezzo presenti. Terza è Toronto, 70 vinte e 59 perse, ricordiamo che Toronto è una delle squadre che ha cambiato allenatore nel corso della stagione, è andato via Charlie Montogno per insufficienza di risultati e al posto di Montoya sta scelta una soluzione interna con Ben Schneider che è di fatto il bench coach che è subentrato appunto a stagioni in corso, e da quando è arrivato Schneider i Toronto Blue Jays sono delle squadre più in forma della Lega, Schneider è entrato in carica appunto a metà luglio se non ricordo male, fatto sta che comunque Toronto in questo momento si assicurerebbe un posto alla wildcard. Baltimore 69 vinte e 61 perse nonostante abbiano venduto uno dei suoi assi ovvero tra i mansini o mancini visto che è elegibile per la zona italiana. Ha gli Houston Astros e hanno comunque un record tuttora sopra il 50%, 69 vinte e 61 perse. Chiude Boston con 64-68, ecco Boston secondo me è la squadra che più delle altre è tagliata fuori in questa lotta wildcard visto anche il fatto che da un po' di tempo, parliamo di una Boston che è vero era partita male, ha avuto un risollevamento di fatto a maggio e poi dopo dei Boston Red Sox non si è più sentito parlare. Chi tenere d'occhio comunque in questa divisione? Sicuramente il 99 degli Yankees perché Aaron Judge è sicuramente un giocatore clamoroso, sta avendo una stagione pazzesca, 51 fuoricampo a oggi è uno dei record migliori di questa Major League, Aaron Judge è il leader dei fuoricampo di tutta la Lega, National League compresa e se continuava nel ritmo che ha avuto di fatto prima di agosto avrebbe attentato al record di Roger Manish, quello dei famosi 61 fuoricampo, peraltro c'è un bellissimo film che ne parla ovvero appunto 61. Va detto che comunque in realtà Judge è ancora in streak e in possibilità per poterci riuscire, certo arrivare al record quelli famosi con l'asterisco di McGuire, Sam Misosa e compagnia cantante, c'è veramente tanta cosa da fare ma il record dei 61 degli Yankees di Roger Manish è assolutamente alla portata per il ragazzo californiano che sicuramente è ancora una volta uno dei go-to-guy della formazione di Aaron Boone, chi invece non è un go-to-guy ma è sicuramente uno da tenere d'occhio è un rookie dei Baltimore Orioles, sappiamo che i Baltimore Orioles hanno un record, e lo rivediamo subito, sopra il 50% e hanno appena ceduto, ripeto, il loro giocatore migliore tra i mansini agli Houston Astros, i Baltimore Orioles però hanno una buona capacità, quella di fare un buonissimo farm system, non ai livelli di Tampa Bay Race, che è quello secondo me raggiungibile, ma hanno avuto modo di far notare diversi giocatori giovani, uno su tutti Cedric Mullis, peraltro fresco di convocazione per gli Stati Uniti al prossimo World Baseball Club, di cui però parleremo l'anno prossimo. Un altro ragazzo che invece è stato appena chiamato è il ragazzo che vediamo qui inquadrato, ovvero Gunnar Henderson. Henderson è appunto un rookie arrivato appena in questi giorni in MLB, perché parliamo di un ragazzo richiamato dal AAA, prima apparizione in battuta al Progressive Field di Cleveland, contro una squadra che comunque è in forma, se la sta lottando assolutamente contro Minnesota e Chicago White Sox per i playoff, lancia Tristan McKenzie, gira Gunnar Henderson, la palla si perde oltre all'esterno destro e va oltre le recinzioni del Progressive Field, e dunque super pepi per Gunnar Henderson, che peraltro ha girato talmente forte da perdere il caschetto, e dunque prima valida della carriera di Henderson, e appunto primo fuoricampo, non di certo una roba da poco, 429 piedi, la distanza prevista per questa bomba spaziale di Henderson, un Henderson di cui secondo me sentiremo tanto parlare, perché ricordiamo che tolto Francisco Alvarez, catcher dei miei New York Mets, Henderson è il numero uno prospetto della nazione, anche se ho detto veramente in modo orrendo, appunto il secondo assoluto, quindi tanta roba, e dunque benvenuto allo show per il buon Gunnar. C'è un altro rookie di cui dovremo parlare, ma ne parleremo quando arriveremo alla scuola dedicata, passiamo adesso invece all'American League Central, un American League Central che è un macello per quanto riguarda la qualificazione ai playoff, in una division che difficilmente, se continua così, vedrà una qualificata tramite wildcard, perché è una lega meno competitiva, una divisione meglio, meno competitiva, di East e West dell'American League, e dunque necessariamente chi vince si qualifica ai playoff, per gli altri probabilmente non ci saranno chance, a meno di mesi di settembre clamorosi. Cleveland in questo momento è prima, con 68-20 e 61 perse, appena dietro ci sono i Minnesota Twins, con 67-20 e 62 perse, e terzi sono i Chicago White Sox, che sono sotto il 50%, e che stanno di fatto staccandosi un po' dal duo Cleveland-Minesota. Ecco, Chicago-White Sox sono la delusione più grande, evidentemente, di questa divisione, perché tutti, me compreso, li davano al primo posto di questa division, con una qualificazione non dico facile ai playoff, perché comunque questa Minesota doveva essere battuta, ma di certo non mi aspettavo che i White Sox rantolassero, appunto, intorno al 50%, poco meno. È una stagione che, evidentemente, dovrà consacrarli dopo le buone prestazioni degli scorsi anni, e invece i White Sox stanno veramente finendo, non dico after the music, ma nel Ligbo, nella terra di nessuno. È evidente che, se dovessero mancare la qualificazione dei playoff per la squadra di Fondina Russo, si parlerebbe di fallimento praticamente totale. Invece, è una bellissima lotta tra, appunto, i Cleveland Guardians, anche se faccio sempre una fatica clamorosa a chiamarli così, e i Minnesota Twins. Ecco, su Minesota ci si poteva aspettare sicuramente un rimbalzo dopo la stagione di Sassolo dello scorso anno, e infatti, gli investimenti fatti hanno portato a una squadra molto competitiva, perché Minesota, ricordiamo, ha un Carlos Correa molto importante, ha un Byron Buxton che è esploso, ha una marea di altri giocatori assolutamente interessanti, sorprende Cleveland, che non era data come prima forza della division, ma come terza, e che invece, con un solo grande giocatore, di fatto, che è José Ramirez, e, appunto, anche l'annunciatore che si sta ritrovando, vedi Shane Bieber, che non è, diciamo, il tipo devastante nel 2020, e anche Tristan McKenzie sta cercando di trovare una qualificazione dei playoff, che sulla carta era assolutamente insperata. Chi, invece, sicuramente non si qualificherà ai playoff saranno i Kansas City Royals e i Detroit Tigers, quarti e quinti dell'American League Central con 53-20, 79 perse i Royals e i 50-20, 81 perse i Detroit Tigers di El Mago Javier Baez, che è vero, ha scelto i soldi del contratto di Detroit, che comunque, ripeto, a differenza della prestazione non è una bruttissima squadra, probabilmente manca l'amalgama, un po' come in altre squadre, vedi per esempio quelle dell'American League West, American League West di cui andiamo a parlare immediatamente, perché abbiamo una Houston che è i per prima e non poteva che essere altrimenti. Sappiamo perfettamente che gli Astros sono una squadra creata per andare ad arrivare fino in fondo, arrivare a ottobre, dove lì ci saranno i giochi veri. Houston, che di base era una squadra fortissima, con tre mancini lo sono ancora di più, e infatti 84 vinte e 47 perse. Secondi sono i Seattle Mariners di cui io ho da un anno che predico bene e finalmente sono condito di averci azzeccato per una volta. La squadra di Washington ha un record molto importante per questa American League West, 73-258 perse sarebbe un record che trasportato su altri division gli garantirebbe un posto comunque tramite wildcard e se fosse nell'American League Central la Seattle sarebbe addirittura prima senza discussioni e invece qui è seconda, ma perché davanti sono gli Houston Astros veramente una macchina clamorosa al netto della World Series vinta tanto discussa nel 2017. Di Seattle dobbiamo parlare perché è vero abbiamo parlato di un rookie importante di un'altra squadra ovvero quello di Baltimore Gunnar Henderson ma dobbiamo parlare ancora una volta di Julio Rodriguez che veramente J-Rod è un giocatore spaziale. Da quando è arrivato ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo ha già fatto 22 fuori campo una media battuta di 266 è un talento purissimo ha già per dire i suoi tifosi personali nello stadio di Seattle che ricordo è il bellissimo T-Mobile Park ed è già entrato nel club dei 20 fuori campo e 20 basi rubate perché appunto oltre che essere un bel battuto di potenza Julio Rodriguez è anche molto veloce è un classe 2000 ne sentiremo tanto parlare e chissà che la Repubblica Dominicana non ci possa fare un pensierino per il World Series 2 Classic dell'anno prossimo che appunto vedrà anche l'Italia coinvolta nel girone però asiatico a Taiwan un girone francamente proibitivo ma comunque tornando all'MLB Julio Rodriguez è un giocatore che da quando è arrivato lo gioco con molta attenzione e sono contento di anche qui averci azzeccato e quindi bella per Julio Rodriguez la sua grandissima stagione attenzione perché appunto sentiremo tanto parlare del numero 44 dei Seattle Mariners di cui invece non sentiremo parlare saranno i Texas Rangers che anche loro hanno abdicato fortemente 58 vinte 72 perse stagione che comunque era partita sotto diversi buoni auspici a netto che hanno investito tantissimo sul mercato perché basti pensare che solo l'acquisto di Corey Seager e Marcus Simeon rispettivamente dai Dodgers e dai Blue Jays ha portato un introito o una spesa meglio di 300 e passa milioni ecco diciamo che i 300 e passa milioni non sono dispesi per una squadra competitiva e infatti sono nel limbo anche loro terzi in questa division che però vede appunto come favoriti Houston e i Mariners peraltro Texas che ha operato l'ennesimo cambio in corsa della stagione perché il manager Chris Woodward è stato licenziato per appunto mancanza di risultati di fatto è vero che Texas ha sempre appunto proclamato che torneranno nel 2023 e che non era questo l'anno per completare il percorso e che le ambizioni sarebbero arrivate appunto dagli anni successivi certo però che la striscia di sconfitte consecutive i pochi risultati nel mese di luglio e agosto hanno fatto propendere alla diligenza di Texas di licenziare Chris Woodward che ha sempre avuto un record perdente con i Texas Rangers però va detto che comunque l'acquisto di Corey Seager e di Marco Simen di certo non sono per una squadra che punta arrivare ultima della division anzi i Texas Rangers puntano di certo ad arrivare ai fasti di un tempo quelli che li videro protagonisti nella World Series persa nell'11 e nel 12 però appunto è una strada che è complicata e dovrà assolutamente essere percorsa probabilmente in più anni e sicuramente con un altro manager perché Chris Woodward appunto ha finito la sua parentesi con i Texas Rangers per quanto come appunto dice l'articolo di ESPN abbia praticamente mezzo miliardo di dollari garantiti in ogni caso vedremo chi sceglieranno per l'anno prossimo i Texas Rangers che appunto come le squadre che vedremo dopo dell'American League West hanno appunto chiuso la loro stagione e di conseguenza salutiamo per i playoff ancora una volta i Los Angeles San Jose Vanaheim con 57-20 e 74 perse ancora una volta la dirigenza non è riuscita a creare a Joe Maddon una squadra così competitiva ed è un peccato perché ricordiamo che gli Angels hanno quel fenomeno di Shoaio Tani che sta veramente cambiando il gioco in tutte le maniere possibili e immaginabili è il giocatore più forte in questo momento del gioco cioè Mike Trout e considerato che comunque gli Angels sono una bruttissima squadra è evidente come ci sia qualche problema a un monte della costruzione probabilmente più che i giocatori andrebbe a chiamato qualcosa in alto della società quindi immagino il general manager ripeto le operazioni di baseball insomma qualcosa che non riguardi proprio il campo necessariamente peccato perché appunto gli Angels sono una squadra che molti tifosi anche non tifosi dei Angels aspettano con ansia e vedremo cosa ci riserverà anche in questo caso il futuro chi invece non aveva chance dal giorno 1 di questa stagione è Oakland che appunto ha una marea di problemi per quanto riguarda il futuro stadio il futuro della franchise addirittura e di conseguenza sappiamo che Oakland con la svenita totale evidentemente è venuta anche nel mercato estivo oltre che appunto nella parentesi invernale ha appunto dichiarato la stagione persa sicuramente questa e probabilmente anche le prossime vedremo se poi ci sarà un domani per il appunto team di Oakland ma ne dubito fortemente come sapete si parla tanto di un ricollocamento a Las Vegas o anche a Portland Oregon per un'American League che appunto è molto in lotta per la wildcard e che regala molti spunti di interesse passiamo adesso alla National League la divisione est dove c'è la mia squadra preferita ovvero i New York Mets che sono primi sì ma non con tantissimo margine va detto però che comunque Mets e Braves sono di fatto qualificate ai playoff non dico matematicamente bisognerà comunque vedere il piazzamento al momento il vantaggio degli New York Mets sugli Atlanta Braves è di tre partite perché i Mets di Buckshaw Walter sono primi con 84 vittorie e 48 sconfitte e secondi sono i campioni in carica di Atlanta Braves con 81 vinte e 51 perse è una bella sfida quella che intercorre tra i Braves e i Mets c'è stata pure una serie di recente vinta dai Mets che sembrava avessero allungato ma detto che appunto la formazione di Shaw Walter aveva praticamente una doppia cifra di partite di vantaggio prima dell'All Star Game dopo l'All Star Game i Mets hanno avuto un periodo di flessione e adesso appunto gli Atlanta Braves sono comunque tornati e meno male perché ci vuole secondo me una squadra difendente del titolo di un certo livello così come di un certo livello sono i rienti dagli infortuni sia dei Mets sia degli Atlanta Braves però gli Atlanta Braves mi hanno sorpreso peraltro su un giocatore in particolare anche lui lanciatore è ovvio che però per i Mets parliamo del grande ritorno di Jacob De Grom che è stato fuori di fatto sei mesi per infortunio e alla fine il GOAT come viene chiamato dai tifosi dei Mets ha fatto molto bene e si vede come il ritorno di De Grom abbia svoltato il periodo nefasto dei Mets che comunque avevano ulteriori problemi sul monte di lancio perché si è fatto male Carrasco che era il quarto della rotazione De Grom non stava tornando Scherzer è vero che reggeva su una baracca ma non può reggere il 21 da solo una rotazione intera dei partenti e De Grom comunque ci ricorda che è probabilmente il più grande lanciatore dell'era moderna o di questa decada sicuramente con delle statistiche incredibili è stato fuori praticamente un anno per non contare fuori anche metà della stagione scorsa 4 vinti e 1 perse per una media ERA o punti sul lanciatore di 1,98 ricordiamo che chi è sotto i due punti di partita di media concessi a partita è considerato uno dei lanciatori più importanti e dominanti di questa lega così come lo potrebbe diventare un altro giocatore dei Braves oltre Max Fried che in parte lo è già parliamo però di Spencer Strider un rookie un altro rookie terribile dopo Julio Rodriguez di cui abbiamo detto tante lodi quindi vogliamo dire tante lodi appunto di Spencer Robert Strider classe 98 di Columbus Ohio lanciatore che inizialmente è iniziato come rilievo quest'anno è stato riconvertito a partente per via della sua incredibile velocità perché parliamo ovviamente di media velocità di 96 miglia 9 vinte e 4 perse per Strider 2,67 di media di array veramente molto buona per essere un partente all'esordio in 114 inning e due terzi lanciati va detto però che il record che impressiona è la quantità di strikeout che Strider riesce a mettere in carniere contro gli avversari ultimo è il record effettuato nella sua ultima partenza perché Strider è diventato il primo rookie evidentemente nella Lega in questa stagione a battere il record di strikeout appunto per la sua categoria dei rookie in una singola partenza di regular season il record precedente era di 14 adesso è alzato di 2 perché nell'ultima partenza appunto Strider ha messo insieme 16 strikeout per una netta vittoria degli Atlanta Braves qualcosa di clamoroso dunque attenzione a questi rookie terribili come abbiamo detto in questo podcast quindi Anderson Rodriguez Spencer Strider sarà un nome secondo me su cui i Braves dovranno puntare per avere un solito partente nel futuro quindi tanta roba per comunque colui che di fatto insieme a Max Fried è un sontuoso Kyle Wright sta tenendo in piedi la tanta Braves per una lotta all'ultimo respiro con i New York Mets per capire chi sarà il primo qualificato di questa divisione che appunto permette di saltare un turno ai playoff senza accedere appunto alle Wild Card Series per quanto riguarda invece il resto della divisione abbiamo i Philadelphia Phillies che sono anche loro comunque in piena lotta per la Wild Card con 73 vinte e 58 perse per la formazione di Bryce Harper Cash Barber Zach Wheeler e soprattutto Aaron Nola quarti sono i Miami Marlins che non hanno una stagione comunque felice ma lo si sapeva già dall'inizio con 55 vinte e 75 perse comunque è una stagione interessante per la formazione che puntava di fatto a una delle varie ultime in questa divisione perché ultimi sapevamo erano i Washington Nationals e lo sono effettivamente con 45 vinte e 86 perse lotta importante anche nella National League Central soprattutto tra St. Louis e Milwaukee St. Louis sembra aver messo la quarta e superare i Milwaukee Brewers che comunque hanno delle chance di qualificarsi ma devono imbroccare un mese di settembre assolutamente sul pezzo St. Louis è priva con 76 vinte e 55 perse 6 partite e mezza di vantaggio sui Brewers 69 vinte e 61 perse anche qui verosimilmente è un duello tra i Cardinals e i Brewers perché le altre tre formazioni sono veramente after the music perché abbiamo i Chicago Cups di Wilson Contreras che è l'unica superstar rimasta da quella squadra incredibile che vinse il titolo del mondo del 2016 con 56 vinte e 85 perse ma era in onore di trade anche lui e mi aspetto che Contreras cambi squadra nella off-season invernale quarti sono i Cincinnati Reds 51 vinte e 78 perse peraltro Chicago e i Cincinnati hanno dato vita al Field of Dreams match 2023 che è stato di livello leggermente inferiore rispetto a quella spettacolare Chicago White Sox New York Yankees dell'anno scorso va detto però che per l'or il Field of Dreams ha regalato comunque una partita interessante perché sappiamo che i Reds sono citati anche nel famoso film e il libro che appunto ha fatto diventare il baseball un gioco iconico anche se va detto in my honest opinion non è il mio film preferito su questo meraviglioso sport ultimi sono i baseball pirates che ho visto di recente contro la tanta Braves purtroppo male male rullati male 14 a 2 va detto però che appunto i Pirates un po' come Oakland e Washington non erano delle squadre prosticate alla vigilia e non lo sono effettivamente tuttora Pittsburgh è appunto in una fase di tanking estremo una rifondazione colossale ultima division che andiamo ad analizzare è quella della National League West ed è quella dei Los Angeles Dodgers che hanno veramente ingranato la quinta e di fatto salutano la compagnia vincendo per l'ennesima volta questa division manca solo la matematica ma con 90 vittorie è qualcosa di clamoroso e quindi complimentoni ai Los Angeles Dodgers che tutti gli anni sono costruiti per vincere e quantomeno la division se la portano a casa ai playoff spesso gli manca il centesimo per fare l'euro ma sappiamo benissimo che i playoff sono un'altra cosa rispetto alla regular season ma i Los Angeles Dodgers sono veramente non dico in possibilità di battere record di vittorie per una squadra in una regular season singola che è 114 però ci siamo veramente vicini 90 vittorie a un mese di stagione regolare di conclusione è veramente qualcosa di clamoroso e non staremmo qui a indicare tutti i grandi giocatori candidosi perché altrimenti ci metteremmo veramente due episodi del podcastone secondo i sogni San Diego Padres hanno 3 vittorie 59 perse anche loro in odore di wildcard in questo momento San Diego sarebbe qualificata come sesta totale della Lega e ne vedremo ovviamente con la classifica finale parenti su San Diego abbiamo parlato tantissimo di lanciatori che dominano vedi per esempio Strider vedi per esempio De Grom parliamo però di Josh Hader e voi mi direte sarà sicuramente un lanciatore dominante perché ha fatto lo scambio con Milwaukee dove dominava e scherzava la gente e è andata a San Diego che quindi è una squadra molto forte e competitiva ecco diciamo che le statistiche di Josh Hader sono disastrose e quindi non è più diventato quel lanciatore dominante che era fino alla trade con Milwaukee ricordiamo che Hader è stato scambiato perché non voleva rinnovare il contratto con i Brewers è andato a San Diego squadra comunque più competitiva in questo momento di Milwaukee seppur comunque entrambe sarebbero in lotta per i playoff e alla fine le statistiche di Hader sono un disastro perché da quando è andato a San Diego fare solo due salvezze conquistate sconfitte come se piovessero media IRA di 6,35 che è un'enormità soprattutto per un closer che deve venire lì per chiudere le partite e portare a casa le vittorie per la propria squadra tant'è vero che il manager di San Diego ha deciso di sollevare temporaneamente quantomeno Hader dal luogo di closer ed è comunque uno smacco per il 71 che sappiamo perfettamente essere uno dei closer dei giocatori più dominanti dal punto di vista del monte di rilievo e quindi vedremo se Hader possa diciamo ricaricare le batterie per arrivare ai playoff ed essere quello che ci ricordiamo ovvero un closer devastante così invece sembra un lanciatore che non è adatto invece a quel ruolo ed è un peccato ma sappiamo che il baseball sempre vive di alti e bassi soprattutto dal punto di vista mentale le ultime squadre che andiamo ad analizzare sono gli Arizona Diamondbacks che sorprendentemente sono terzi e va detto che comunque Arizona nelle ultime 10 ha lo stesso record di San Diego ovvero 7 vinte chi delude tantissimo e che di fatto abdica a questa stagione sono i San Francisco Giants che l'anno scorso ricordiamo avevano vinto 107 partite veramente un'enormità squadra è stato di grazia e sono usciti a gara 5 contro i Dodgers nei playoff e adesso sono appunto after the music con un rollercoaster veramente verso il basso ecco San Francisco è una grandissima delusione 61 vinte 68 perse per la formazione di Gabe Kepler che batte semplicemente i Colorado Rockies che anche loro però non erano però preventivati a una buona stagione un po' come gli Arizona Diamondbacks 56 vinte 76 perse per la formazione di Chris Bryant che peraltro si è infortunato e di conseguenza non ha potuto dare il contributo ai Colorado Rockies che ci si poteva aspettare ma un po' come va di squadra che abbiamo visto i Rockies li potremo aspettare forse nei prossimi anni ultima classifica che andiamo a vedere prima di concludere il podcastone di questo mese è la wildcard perché sappiamo perfettamente che adesso bisogna guardare questa classifica oltre quella della regular season sappiamo ricordo anche una volta che quest'anno la MLB qualifica 12 squadre totali ai playoff 6 per Lega passano le prime tre di ogni divisione e in questo caso per l'American League sarebbero Houston New York Yankees e Cleveland le migliori due qualificate quindi in questo caso Houston e New York Yankees avrebbero un bye per il secondo turno quindi Houston e New York sarebbero qualificate direttamente al secondo turno Cleveland invece che è vero sarebbe vincitata di division ma sarebbe comunque qualificata alle Wildcard Seed dove affronterebbe la sesta qualificata in questo momento i Toronto Blue Jays che hanno una partita e mezzo di vantaggio sui Baltimore sui Minnesota Twins e altri qualificati in questo momento sarebbero Tampa Bay e Seattle che si sfiderebbero tra di loro in una serie ricordiamo al meglio delle tre partite quindi la prima squadra che vince due sfide si qualifica al turno successivo ma ovviamente anche qui andremo ad approfondire col podcast dedicato nel tabellone dei playoff a inizio ottobre la American League offre comunque una wildcard molto interessante una lotta per la wildcard molto interessante perché appunto fuori dalla wildcard ma con una sola partita in mezzo di Getafe ci sono i Baltimore Orioles che comunque stanno facendo una stagione sorprendente con questo core di ragazzi giovani dietro ci sono i Minnesota Twins che però se la stanno lottando con Cleveland quindi attenzione perché come dicevo prima chi si qualifica per primo nella division American League Central va in playoff e chi è secondo rischia clamorosamente di andare fuori va detto che il Minnesota ha tre partiti di distacco dell'ultimo posto dell'utile di Toronto ci sarebbero anche i Chicago White Sox che però devono imbroccare all'inizio del settembre molto interessante altrimenti anche la funzione di La Russa e Compagnabella sarebbe appunto chiamata fuori per una delle grandi delusioni di quest'anno stesso discorso per la National League in questo momento sarebbero qualificati i Los Angeles Dodgers e i New York Mets che avrebbero il bye per il secondo turno alle division series appunto ed anzi qualificati sarebbero i St. Louis Cardinals che però affronterebbero la sesta qualificata della National League ovvero i San Diego Padres che sono secondi nella National League West i quarti e i quinti qualificati invece sarebbero direttamente dalla National League East che un po' come nella American League la parte Est della Lega M&P offre tante squadre qualificate perché abbiamo visto che in lotta ci sono tanta Toronto e Baltimore e New York Yankees qualificati per l'American League qui sarebbero qualificati New York Mets a tante Philadelphia per la National League a tante Philadelphia che per l'altro si sconterebbero in un turno molto interessante sconto diretto di division appunto nella Wildcat Series Milwaukee è fuori ma di tre partite e la di fatto lotta finisce qui ci sono soltanto cinque squadre in lotta bisognerebbe vedere chi vince la division tra Mets e Braves bisogna vedere se Milwaukee si risolleva per attentare al posto di San Diego e se San Diego non implode allora è una lotta un po' più chiusa rispetto a quella dell'American League è comunque il mese di settembre che terremo d'occhio e poi dopo vedremo come si svilupperà il magico mese dei playoff ovvero quello di ottobre quindi questa era la conclusione del podcast per quanto riguarda il mese di settembre ricordo i prossimi appuntamenti per quanto riguarda il meraviglioso gioco del Bable su questo canale ci sarà la seconda parte del pagellone che abbiamo fatto con Puma Z all'All Star Game lo rifaremo per fine stagione poi dopo il pagellone con Puma Z farò il podcast canonico per quanto riguarda il tabellone dei playoff dove parleremo un po' di tutte le squadre dei vari pronostici fino ad arrivare appunto alle World Series ricordo che a ottobre ogni fili turno ci sarà un episodio nuovo del podcast MLB perché sapete che ottobre è il mese dei playoff MLB e di poco altro il prossimo video invece sul canale sportivo sarà invece questa domenica torniamo a parlare di Formula 1 perché c'è il grabberno di Holanda al circuito di Zandvoort il saluto da parte di Meteo Torgaard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video